Qualcuno ci deve spiegare che cosa è il potere e allora compare questo filosofo, questo pensatore, no? Che è Montesquieu, che è un francese che ha questa faccia appunto da primo della classe e che adesso ci spiega che non esiste un solo potere, non esiste un unico potere, ma esistono tanti poteri e questi poteri vanno raggruppati, vanno messi insieme in quelli che sono i poteri più importanti di tutti. E quali sono questi più importanti di tutti? Uno, l'abbiamo detto, il potere di fare le leggi, cioè sapere che c'è qualcuno che dice che scrive quelle che sono le regole del gioco del vivere e quindi da quando ti svegli a quando vai a dormire tu non lo sai ma stai seguendo tante regole e stai seguendo la legge.